Biblista, teologo, profondo conoscitore dell'ebraismo, autore di circa 300 libri. Il cardinaio Gianfranco Ravasi è uomo di cultura appassionato di dialogo. Lei è il fondatore del Cortile dei Gentili, che è una struttura oggi interna al di Castero per la cultura e l'educazione, che si preoccupa proprio di favorire il dialogo tra credenti e non credenti. E allora partiamo proprio da questo tema. In una società come la nostra, laica e secolarizzata, cosa vuol dire essere pellegrini di speranza? Beh, innanzitutto sarebbe necessario definire questo Cortile dei Gentili, perché è un'espressione, forse per alcuni dei telespettatori, un po' strana, perché parte da uno spazio del Tempio di Gerusalemme che era riservato ai gentili, cioè le genti, cioè i pagani, che erano considerati dagli ebrei come non credenti, in realtà avevano i loro dei. E la possibilità tra questi due mondi separati, da una parte il Cortile degli Israeliti, dall'altro quello delle genti, dei gentili, era la possibilità almeno di vedersi, di potersi scambiare qualche parola, qualche frase, probabilmente in greco perché era l'inglese di allora. E dall'altra parte però c'era un elemento che è fondamentale anche per il discorso più generale, cioè esisteva un vero e proprio muro di separazione, una specie di cortina che distanziava nettamente i due ambiti, perché uno era sacro e l'altro invece era profano. Ebbene, su questa cortina, su questo muretto, sono state trovate poi dagli archeologi delle targhe, due, e una in maniera particolare che combinava la pena di morte, in greco era, naturalmente perché lo comprendessero i gentili, a chi avesse varcato questa soglia. Ed è interessante allora, credo che anche i nostri telespettatori riescano a cogliere questo aspetto, quando Paolo scrive ai cristiani di Efeso, nel capitolo secondo, cosa dice? Dice, Cristo è venuto e ha abbattuto il muro di separazione che c'era tra i due popoli facendo dei due un popolo solo. Cristo è venuto a picconare questa divisione e a far sì che invece non solo si guardassero, ma si incontrassero dialogando, rispettando l'altro e così via, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Soprattutto orientando tutti, credenti e non credenti, verso un orizzonte appunto di speranza. Quindi il Giubileo ha qualcosa da dire anche a chi non crede? Il Giubileo ha soprattutto molto da dire a quanti credono, ovviamente, ma anche a quanti non credono. Perché se noi facciamo passare, l'invito è ai nostri telespettatori, l'invito sarebbe quello di prendere in mano la loro Bibbia, che c'è nella loro casa, e provare a leggere, tentare di leggere, il capitolo venticinquesimo del libro del Levitico, il libro dei preti, in pratica, dei sacerdoti, di figli di Levi, la tribù sacerdotale, è il terzo libro della Bibbia, nel quale, al capitolo venticinquesimo, si descrivono le condizioni per poter espletare il Giubileo. Prima di tutto diciamo che il Giubileo, questa parola, deriva dall'ebraico Yobel, che letteralmente, c'è 27 volte nell'Antico Testamento, per sei volte vuol dire il corno del montone. Quindi era, poi invece negli altri casi è il Giubileo, il suono di questo corno, in un mese dell'anno, il mese di Tishri, che corrisponde più o meno al nostro autunno, suonava e segnava quasi una sorta di divisione, di separazione, tra il tempo precedente e questo nuovo anno che iniziava, tutto particolare. Questo quando accadeva? Dopo sette settimane d'anni, quindi il cinquantesimo anno. E lì cominciava tutta una serie di impegni, che non so se poi dopo saranno anche l'oggetto del nostro discorso, io comunque li elenco soltanto ora, ma sarebbero tutte da approfondire. Gli impegni sono questi. Tu non seminerai, non arerai la terra, non vendemmierai, non mieterai. Cioè la terra deve rimanere in sabato, in riposo, perché tu abbia a ricordare che la terra non l'hai fatta tu, è un dono che tu ricevi. E quindi la terra per questo anno ti produrrà spontaneamente quanto è necessario per poter vivere. Ed ecco allora, e qui abbiamo la dimensione evidentemente ecologica, se si vuole, il rispetto della terra. E curioso è anche un fatto che di solito non viene sottolineato, che questo atto nei confronti della terra doveva essere fatto ogni sette anni. E allora, al settimo anno, allora se per un momento chi ora ci sta ascoltando fa il calcolo, il settimo anno della settimana d'anni era il quarantanovesimo, e poi seguiva il giubileo. Per due anni lasciare la terra incolta è possibile, che probabilmente non avveniva, ma era una specie, qui diciamo una parola che ai nostri giorni non si deve più pronunciare, perché viene sbeffeggiata quasi, era un'utopia, cioè il desiderio di qualcosa di più alto, che poi dopo concretamente si esploitava. Ci sono tanti altri temi che magari affronteremo. Quindi il tema dell'utopia e anche del riposo della terra è un tema che comunque oggi è di grande attualità, anche con i non credenti. Certo, il rispetto della terra, ricordando sempre che noi tutti, tutti, ci chiamiamo Adamo, perché Adamo in ebraico non è un nome proprio, è contrariamente a quanto si crede. In ebraico ha l'articolo, ha, Adam, ha è l'articolo. Adam letteralmente vuol dire colui che ha il color rossastro, ocra dell'argilla, perché è il legame con la materia. Noi abbiamo un legame creato, ed è per questo che quindi questo rispetto, tutti i temi adesso della transizione ecologica, la laudato sì, è tutta centrata in prate sue. Ma non basta, perché il giubileo, e adesso forse lo vedremo, il giubileo è dominato anche, è in pratica tutta la Fratelli Tutti, perché ha tutta una serie di impegni di tipo sociale, di tipo comunitari. E ora lo vedremo. Però partiamo da lei. Il tema del giubileo è proprio questo cammino verso la speranza, pellegrini di speranza. Cosa dà speranza alla sua vita? Cosa si aggrappa anche nei momenti più difficili? Beh, questo credo che sia una testimonianza che ognuno può dare, secondo forme diverse, perché come tutte le virtù, hanno volti differenti secondo le persone. E la speranza, tra l'altro, ha una caratteristica un po' particolare, che è stata messa in luce molto bene da un poeta francese, che si chiamava Charles Peggy, che è morto proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, tra i primi morti è stato. Ebbene, lui ha scritto un poemetto intitolato Il mistero del portico della seconda virtù. Guardate bene, la seconda virtù. Perché noi sappiamo che esiste una trilogia, le tre grandi virtù teologali, che sono fede, speranza e carità. E lui diceva che la fede e la carità e l'amore sono le due sorelle maggiori, solemne, grandiose, evidentemente. Ma, dice, c'è la sorella più piccola, che si chiama Speranza, la quale fa quello che fanno i bambini quando i genitori stanno camminando per una strada e si fermano a chiacchierare tra di loro o con un amico che hanno incontrato oppure si fermano le donne, soprattutto a guardare le vetrine, giustamente, a vedere il paesaggio di una città. Che cosa fanno normalmente i bambini? Strattonano i genitori. Ecco, fede e carità per andare avanti hanno bisogno della speranza. Se no, credere e amare senza... E io, ecco, devo dire che nella mia vita ho avuto la fortuna di essere quasi sempre stimolato ad andare avanti. Anche perché uno che si interessa per tutta la vita, come è stato per me, di due componenti, la cultura da una parte e dall'altra parte la Bibbia, inesorabilmente è portato a quella realtà che in nostri giorni non si pratica molto anche nelle scuole. La ricerca. Eh, Platone stesso, quando parla del suo maestro Socrate, nell'Apologia di Socrate, a un certo momento Socrate gli dà una specie di frase testamento. E questa frase testamento, com'è? Una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. Cioè, questa è la speranza, è la tensione, eh. E invece, vedete, ci si acquieta. L'esempio tipico è proprio tante volte dell'emarginato, che è abbandonato ai lati della strada, non aspetta più nulla. Ed è drogato anche, diciamo. Cioè, di coloro che non hanno più, questa che io ho avuto la fortuna, di essere sempre stimolato. e questo è un dono che io vorrei augurare anche a tutti i nostri telespettatori. Lei ha incontrato tante persone, anche per gli incarichi prestigiosi che ha ricoperto, per questa ricerca che l'ha portata a incontrare appunto tanti uomini e donne di cultura. C'è qualcuno che ha lasciato il segno? C'è qualche episodio che le piace ricordare? Eh, qui sarebbe difficile perché veramente io ho lasciato, devo dire, dovrei non fare, io non ho nessun interesse, nessuna passione per fare un'autobiografia, ma dovrei, e purtroppo non l'ho fatto, registrare tutte le intuizioni che conoscendo, io devo ringraziare Dio per aver avuto questo arcobaleno di persone così diverse, così ricche anche di competenza, che mi hanno dato la possibilità di scoprire. E di tutte avrei qualcosa, pensiamo solo il mio amico, uno degli amici fraterni, è stato Turoldo per esempio, quanto poteva, magari poi alla fine lasciamo una sua testimonianza, una sua voce. Io però voglio ricordare, per stare nel tema di prima, vorrei soltanto ricordare quello che mi aveva detto uno scrittore francese meno noto, tradotto anche in italiano meno noto, si chiamava Julien Greene, non è Graham Greene, il famoso inglese, lui era francese, si era convertito al cattolicesimo e Julien Greene, io l'ho incontrato una sola, lui ha vissuto tutto il secolo scorso, è nato nel 1900, è morto nel 98, quindi tutto il secolo scorso, e l'ho incontrato, una volta, e io gli ho letto, guardi, io ho letto quasi tutte le sue opere, ho letto anche tutto il suo diario, lunghissimo, un giornale, e mi piacerebbe sapere qual è, secondo lei, l'anima profonda della sua scrittura e della stessa fede che lei aveva abbracciato. Lui ha pensato un po' e dice, guardi, c'è una frase che io devo aver scritto una volta nel mio diario, che forse è proprio la sintesi, lui era di spirito agostiniano, secondo Sant'Agostino, finché si è inquieti, si può stare tranquilli. È l'inquietudine, ecco, questo lo voglio ricordare tra i mille, le mille testimonianze possibili. Nello scenario politico attuale prevale la visione di chi pensa che la sicurezza si era garantita armandosi sempre di più. E non è più un tabù parlare di nucleare, di guerra nucleare. Il 2025, l'anno giubilare della speranza, rischia di vedere una terza guerra mondiale. Il Papa lo dice spesso. Ecco, lei come si sente di fronte a questo scenario e quale dovrebbe essere, secondo lei, la voce dei cristiani? Beh, prima di tutto, diciamo che evidentemente il tema della pace è il tema squisitamente cristiano, perché c'è la definizione, San Paolo a un certo momento definisce Cristo così. Cristo è la nostra pace, cioè è il nome quasi che porta Cristo. Però noi sappiamo bene che questo, secondo me, è significativo, che nella Bibbia, se un nostro ascoltatore, telespettatore, aprisse la Bibbia a caso, è più probabile che trova una guerra in corso oppure uno che si lamenta perché non sta bene, perché è perseguitato, perché è solitario, perché è affamato e così via. Cioè, questo mondo nel quale... perché prima di tutto, per deporre il seme della pace, della verità, dei valori, bisogna però stare, non decollare dalla realtà, verso cieli mitici e mistici, la Bibbia non è questa, la nostra religione, incarnazione, carne, vuol dire invece camminare per queste strade e all'interno di queste strade ci sono molte componenti modeste che noi, che siamo impotenti di fronte ai potenti del mondo che decidono, ci sono alcune componenti che sono proprio anche del Giubileo, che io adesso vorrei recuperare qui proprio per... Nel Giubileo, per esempio, c'era, pensiamo, che cosa vuol dire oggi con la questione della lotta per una terra, quando si è arrivati ai 50 anni bisognava restituire la terra che si era acquisita a una famiglia, a una tribù, restituire. Voi sapete che all'inizio, quando è iniziata la conquista della terra da parte di Israele, le tribù avevano ciascuno una porzione, tranne Levi, che doveva dedicarsi al culto. avevano una porzione, però magari durante i 50 anni, un po' per, magari, per incapacità, un po' per disgrazie interne, uno perdeva il suo campo, perdeva la sua terra, che era sua, però era acquisita dall'altra tribù, dall'altra famiglia. Quando arrivava il Giubileo, quell'altra famiglia doveva restituirla. Così si rimettevano tutti i debiti che tu avevi per poter ricominciare pensiamo cosa vuol dire adesso quello che si dice spesso, certi paesi in via di sviluppo che hanno bisogno, che hanno dei debiti enormi presso le superpotenze. Perché? Ecco, questo era un elemento molto importante. Vedete, la terra che ritorna al suo legittimo proprietario iniziale. è vero, le colpe possono essere anche sue, ma non valgono più. Bisogna ritornare a una certa parità, a una certa uguaglianza. E l'ultima cosa del Giubileo che è altrettanto importante in questo contesto, bisognava liberare tutti gli schiavi. Uno per povertà, per miseria, diventava schiavo dell'altro, andava a servire il fratello o l'altra comunità e l'altra tribù e in quel caso qui è 50 anni. Doveva essere liberato e ritornava a casa sua libero ormai. Ecco, questo pensiamo che cosa vuol dire adesso quando noi diciamo schiavitù. Che cosa vuol dire tutte le oppressioni possibili che ci sono nei nostri giorni? Non solo quelle politiche, la libertà, la liberazione politica, ma anche tutte quelle che sono le schiavitù. Pensiamo quanto siamo schiavi dei sistemi informatici, dello stile di vita che è introdotto dall'infosfera. È una schiavitù anche quella, il consumismo e così via. Abbiamo appena votato per le elezioni europee. Su cosa i cristiani eletti nei diversi schieramenti dovranno impegnarsi per dare speranza? Cominciamo a ricordare tutti questi elementi del Giubileo che abbiamo ricordato finora che dovrebbero essere proprio degli impegni politici concreti pensando che cosa vuol dire e qui io aggiungo allora il Giubileo di Gesù. Quando Gesù va nella sinagoga del suo villaggio in quel sabato e dato che era abbastanza una personalità di danno da leggere la lettura biblica di quella giornata, di quel sabato che era il capitolo 61 di Isaia lui apre il rotolo legge e dice lo spirito del Signore è sopra di me perché io evangelizzi porti la buona novella ai poveri perché io liberi gli oppressi e i prigionieri ridia la vista ai ciechi e proclami questo anno del Signore che è l'anno giubilare suo. Però vedete ecco, prima di tutto questo impegno come Papa Francesco ininterrottamente dice questa attenzione a tutti coloro che sono emarginati sofferenti che anche quelli nello spirito io penso che cos'è la solitudine nelle nostre città l'isolamento di tante persone malate anziane straniere ecco questo è una componente che dovrebbe essere e dall'altra parte però certo ci sono anche i valori dell'umanità dell'essere uomini e donne cioè la dignità della persona e qui è tutto un discorso molto delicato sulla vita tutti i discorsi molto delicati per esempio sulle identità delle persone come debbono essere rispettate pur nella diversità che esse hanno e come anche esse devono riuscire a fare un loro percorso riconoscendo autenticamente come esse sono cioè esistono quindi ma io direi anche il cristiano che è in politica deve avere un po' di quella carica che non è l'ordinaria amministrazione quello che dicevo prima l'utopia avere un po' di più si dice sempre quella cosa di Antoine Saint-Exupéry il famoso autore Il piccolo prince che dice se tu devi creare un vero navigatore non devi insegnargli solo come si costruisce la barca con le doghe tutto quello che è necessario le vele le antenne tu devi innestare in lui inspirare in lui il desiderio del mare spazioso e infinito quando tu sei da solo lì allora quello è il vero navigatore è quello che c'è nella politica attuale tutti bisogna dire sono tutti di ordinaria amministrazione di gestione senza un grande respiro di valori anche un grande respiro di progetti e per questo che a furia di accontentarci delle cose piccole e basse diventiamo incapaci delle grandi Il conflitto in Terra Santa sembra dare voce solo alle componenti più estremiste delle religioni come dare forza a chi invece chiede la pace da entrambe le parti Beh la terra questa terra è sempre stata striata di sangue lo sappiamo e lì io credo che la testimonianza dei cristiani è significativa il canale alpizzaballa per esempio lo ripete spesso ma devo dire tutti i patriarchi tutti i coloro che in qualche modo fanno parte dell'orizzonte cristiano sono una presenza purtroppo sempre più esigua perché tentano evidentemente di migrare però sono loro che in un certo senso in quel contesto dovranno continuare a parlare ed è interessante perciò che colui che ha una funzione alta in questo ambito come il Papa in pratica tutti gli Angelus ritorni come ha fatto anche recentemente ritorni sempre a mettere ecco io direi questa cosa non puoi cambiare tutta la situazione perché le armi sono molto più potenti quelli che gestiscono il potere non guardano certo però deve essere come una spina nel fianco che continui a ricordare questa cosa è quello che fanno un po' credo i cristiani e fanno anche tanti devo dire anche alcune figure dell'ebraismo e dell'islam che hanno in sé questo desiderio di poter finalmente essere di più capaci di guardarsi nei volti e di non considerarsi sempre come nemici da abbattere la preoccupa l'amento di fenomeni di antisemitismo in occidente in Europa beh tutti i fenomeni che sono di fondamentalismo sono sempre la degenerazione della religione c'era un filosofo del settecento David Hume che diceva giustamente gli errori della filosofia sono sempre ridicoli gli errori della religione sono sempre pericolosi ecco questa degenerazione il fondamentalismo è una degenerazione che è nell'interno inizialmente dei fenomeni religiosi poi diventa politico e qui è ancora più pericoloso perché comincia a imbracciare strumenti strumenti non più solo la parola la maledizione contro l'altro ma anche comincia a impugnare le armi e questo antisemitismo io direi che però non riguarda soltanto il mondo ebraico e riguarda un po' tutte le diversità e tutte le minoranze la tentazione anche qui persone ben pensanti del nostro paese che sono tentate tante volte vedendo l'altro e vedendo anche la paura che si può avere anche perché sempre di porre uno stigma negativo di condanna su questi e allora è inevitabile che tutta la società è sempre retta da questa specie di idolo mostruoso che è la paura ecco rendere ragione della speranza che è in noi quali sono i brani della Bibbia che le risuonano di più sul tema della speranza è interessante notare una cosa che la quindi ritorniamo un po' ancora al Giubileo in questo caso che la traduzione antica greca della Bibbia detta dei 70 quando è arrivato davanti a quella parola lì Jobel Giubileo e corno anche come ha tradotto e non ha tradotto come facciamo noi Giubileo che è il ricalco della parola ebraica Jobel Giubileo ha tradotto in greco aphesis che vuol dire remissione perdono liberazione ecco e questo forse è un po' un filo conduttore che nel Nuovo Testamento si robustisce quello del continuare a sperare come rendere ragione della speranza che è in noi come dice San Pietro a partire io penso da quel grande testo che potrebbe essere il testo di base anche se la parola speranza lì non c'è ma è progettuale che è il discorso della montagna di Gesù i capitoli dal 5 al 7 di Matteo che è stato definito la magna carta del cristianesimo ecco in quel caso lì riuscire a partire dalla beatitudini e seguire tutto quel percorso lì si ha veramente il respiro di un mondo diverso di un mondo nuovo che è il mondo della speranza fermo restando che nel linguaggio del nuovo testamento che è greco e questo è anche un po' la mia professione ritornare alle lingue della Bibbia il termine con cui viene definito speranza è normalmente elpis e questo è quello che domina ma c'è anche un'altra parola che è cara a Paolo questa per definire la speranza ed è significativa è ipomone che vuol dire rimanere sotto costanti un peso cioè la fedeltà quotidiana questa è la speranza portare la croce ogni giorno dice San Luca citando la frase di Gesù cioè ogni giorno quando ti alzi la mattina ancora con tutti i problemi magari una famiglia un figlio drogato oppure problemi economici eccetera tenere sempre come dice San Paolo questa capacità di camminare pur avendo questo gioco sopra e questo credo che nella Bibbia nel Nuovo Testamento in particolare sia una componente decisiva La speranza quali opere d'arte evoca dentro di lei un quadro un romanzo una melodia beh innanzitutto potremmo usare semplicemente come modello quasi un dipinto che potrebbe essere riassunto un po' di tutto il discorso ma in una maniera molto originale come è originale l'artista che l'ha concepito all'inizio del Seicento cioè Caravaggio questo personaggio così provocatorio e che in una chiesa romana San Luigi e i Francesi nella Cappella Contarelli descrive questa esperienza globale di Matteo e in particolare parte questo è forse il simbolo più importante parte dalla sua vocazione la vocazione di un uomo il quale è coinvolto nell'interno di una quotidianità pesante come può essere quella di esattore delle tasse lui quindi tutto proteso verso quelle monete che ha davanti a sé e all'improvviso nell'interno della sua stanza della sua suo ufficio irrompe questa figura figura incisiva e decisiva che ha una luce radente laterale da una finestra e che punta su di lui l'indice coinvolgendolo quasi artigliando nell'attenzione e quell'indice anche se pochi lo sanno è Caravaggio ha voluto fare una citazione perfetta dello stesso indice che Michelangelo nella volta della Cappella Sistina aveva usato per rappresentare la creazione il creatore risveglia dal sonno del nulla quasi Adamo e lo porta alla vita quella era la creazione questa è la ricreazione cioè la redenzione e tutto questo per Matteo inizia la speranza inizia questa sua vocazione che lo farà diventare anche evangelista che gli farà abbandonare questo mondo in cui era cupo e rivolto solo difatti la sua immagine in quel momento è così e verrà invece diventerà una voce del respiro più ampio più universale appunto la speranza per quanto riguarda la musica invece io direi che dobbiamo forse un po' questa è una parte un po' faziosa mia bisognerebbe essere capaci di ascoltare Bach o se volete anche Mozart che forse è più facile ed è altrettanto facile in alcune delle sue opere ma Bach è un uomo di una un artista di una religiosità strepitosa io una volta ho studiato tutta la biblioteca che lui ha lasciato perché ha lasciato anche l'indicazione lui aveva solo tre o quattro libri di tecnica musicale tutto il resto erano libri religiosi e dimostrava quindi io direi prendiamo non si possono prendere i corali meravigliosi ma io direi se qualche d'uno ha ascoltato la finale della passione secondo Matteo che bene o male tutti hanno sentito nominare almeno va nella finale e si impressiona perché c'è quel canto corale finale a Gesù che è nella tomba che è simile a una ninna nanna perché è un saluto a Gesù che è addormentato e nell'interno del canto si sente che è la sepoltura in realtà la passione finisce lì nell'interno si sentono della musica bellissima ultraterrene si sentono i brividi della risurrezione cioè che non è la morte ma è come la culla da cui poi sorgerà e qui allora la luce della speranza abbiamo detto anche un romanzo per un romanzo io penso che ci siano tante possibilità ma forse si potrebbe ricorrere non solo direi a Manzoni che sempre è da citare con i promessi sposi con questo suo filo di speranza ma penserei anche qualche volta provare anche a scoprire nell'interno di un autore che sembra essere soltanto colui che ha avuto l'orizzonte cupo e uno dei grandi scrittori dell'ottocento come Dostoyevsky ecco cercare di vedere come in delitto e castigo per esempio alla fine c'è anche il perdono che occhieggia quindi non un binomio ma un trinomio e ancora se si vuole più ancora i fratelli Karamazov perché il messaggio che dà la figura quella a Liosha la figura più pura la stessa leggenda del grande inquisitore quando Cristo si presenta quest'uomo gelido di una religiosità fredda indifferente senza fremiti e gli annuncia invece dopo l'accusa che gli ha fatto che non gli annuncia un messaggio rispetto all'altro che ha continuamente l'ha attaccato dicendo tu sei venuto a distruggere un po' il potere che cosa fa Cristo? Cristo semplicemente si alza e in silenzio bacia le labbra aride di questo freddo inquisitore ecco creando quasi innestando in lui il seme della speranza cosa spera per la Chiesa che si accinge a vivere il giubileo della speranza? la speranza della Chiesa è quella che Papa Francesco continua a sottolineare quasi a esigere della Chiesa quella dell'aprirsi dell'aprire i suoi orizzonti di avere anche di entrare di non fare in modo che gli incensi le volute degli incensi dei canti si rinchiudano soltanto nell'oasi sacrale del Tempio ma attraverso le porte spalancate abbiano entrare nella piazza dove si consumano anche i commerci sì ma anche si dicono le bestemmie dove c'è anche il chi non crede dove c'è il mondo anche delle persone del riso e delle lacrime delle persone fare in modo che ci sia questa uscita come ormai è diventato luogo comune dire sulla base di quello di Papa Francesco e io lo esprimo questo attraverso una poesia di Turoldo con la quale potremmo proprio come abbiamo annunciato potremmo un po' mettere a suggello di questo dialogo ed è una poesia che lui ha scritto nei canti ultimi quindi l'ultima sua produzione la sua secondo me la più alta sua produzione nella quale si rivolge al fratello ateo che lui definisce nobilmente pensoso una citazione di Paolo VI e lui dice a questo personale io Dio non so come dartelo in ultima analisi però noi insieme dobbiamo attraversare il deserto i deserti che sono quelli della razionalità della tecnologia della freddezza dobbiamo però anche attraversare la foresta delle fedi perché le fedi sono una tante volte tante voci ricche però tra di loro magari in contrasto in dissonanza e dobbiamo arrivare e lui scrive con la maiuscola al nudo essere uno nudo ed essere cioè alla sostanza ultima delle cose che per noi il nudo essere come dice Dio a Mosè io sono colui che sono è il mistero di Dio e per il non credente è però qualcosa di ultimo di decisivo e dice là dove non ci sono più le parole c'è il silenzio soltanto c'è la contemplazione lì noi dobbiamo approdare ecco le parole di Turoldo che sono fratello ateo nobilmente pensoso alla ricerca di un Dio che io non so darti attraversiamo insieme il deserto di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi liberi e nudi verso il nudo essere e là dove la parola muore abbia fine il nostro cammino grazie 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 a tutti.